buonasera sono marzio sala presidente e direttore della scuola per educatori cinofili di affinity dog tempo fa facciamo un video nel quale parlavamo delle tipologie di guinzaglio esistenti sul mercato oggi invece approfondiremo l'argomento perché il mio cane tira siamo sempre più portati a pensare che il tirare al guinzaglio dipenda solo ed esclusivamente dal cane invece non è così il guinzaglio è uno strumento di comunicazione tra il cane ed il proprietario da esso passano emozioni pensieri ed azioni dobbiamo considerare diversi aspetti per il quale il cane tira il guinzaglio la razza per esempio quelle da caccia sono più propense ad avere il naso per terra ed avere un passo più spedito paura o timore dei rumori del traffico scarsa relazione con il proprietario tutte queste motivazioni fanno scaturire il comportamento del tirare al guinzaglio ma al guinzaglio anche noi dobbiamo imparare ad andare per prima cosa dobbiamo imparare come si tiene sia per questioni di sicurezza che di insegnamento per il cane il cane è un corpo fisico che si muove su quattro arti e questo lo rende più veloce dell'uomo possiamo dire infatti che anche il cane vive di moto rettilineo uniforme gestendo un certo spazio in un certo tempo ad una certa velocità dobbiamo quindi imparare a controllare in prima istanza la forza centripeta che il nostro cane sprigiona per farlo noi educatori di Affinity Dog insegniamo ai proprietari tutte le manualità corrette da tenere sul guinzaglio partiamo dalla postura corretta del corpo a come si impugna ed arriviamo a come camminare per fare questo vedrete i nostri allievi in esercizi specifici senza il cane concentrandosi solo sul guinzaglio ci permette di essere sempre pronti alla gestione l'esercizio consiste nel simulare l'uso del guinzaglio prima attaccato al muro poi sempre in simultanea se alterno nella tenuta del guinzaglio stesso con questo metodo si impara la primissima gestione del guinzaglio successivamente a questa operazione si passa al lavoro vero e proprio con il cane se sei interessato ai nostri video iscriviti al nostro canale youtube seguici sulla nostra pagina facebook affinitidog.educazionicinofila su quella instagram affinitidog.educazionicinofila e sul nostro sito www.affinitidog.it